Non opporti al malvagio. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Vedete che oggi sono in un luogo speciale, è il Sacromonte di Europa dove ieri abbiamo celebrato la messa del nostro pellegrinaggio zonale della Valle Strona. Ascoltiamo da questo posto il Vangelo secondo Matteo, capitolo V, dal 38 al 42. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Amen. Carissimi amici, oggi il Vangelo ci parla e continua il discorso sulla montagna dove Gesù ha pronunciato la legge antica aggiungendo qualcosa di speciale, portando a compimento quella legge. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa alcuni tratti dove si parlava di non uccidere e Gesù ha detto non parlare male del tuo fratello. Nella legge si diceva non commetterai adulterio, Gesù ha detto non desiderare una donna con i tuoi pensieri. E oggi Gesù prende quel proverbio famoso occhio per occhio, dente per dente, quindi un proverbio vendicativo. Potremmo dire un proverbio che è innato in noi perché è una naturale inclinazione, la vendetta. Quando qualcuno ci fa qualcosa è chiaro che noi incassiamo il colpo e poi prima o poi la faremo pagare. È così. È una disposizione naturale. Lo fanno gli animali, lo fa anche l'uomo. E nella legge antica Dio stesso aveva detto occhio per occhio, dente per dente. Quindi una giustizia potremmo dire distributiva perché hai fatto qualcosa riceverai qualcos'altro nel male o comunque come punizione. Gesù dice io vi dico di non opporvi al malvagio. Oggi Gesù viene a farci tremare. Perché? Perché so molto bene. E tutte le volte che nei Vangeli ci sono questi versetti di Gesù so che tutti i commenti saranno molto simili. La gente dice, noi diciamo, lo dico anch'io a volte, sì è facile parlare ma quella persona l'ha fatta davvero grossa con me. Sì però io ho una situazione così difficile che è impossibile perdonare, che è impossibile non opporsi al malvagio. Io devo andare contro questa persona, anzi devo vendicarmi. Gesù dice invece tu porgi l'altra guancia. Tu a chi ti vuole prendere qualcosa daglielo. Ecco non è che Gesù ci insegni un principio ingenuo. Permettetemi un principio stupido, senza senso. Sì questo qua. Chi è che obbedisce a questi principi, a questa legge di Gesù? Ma chi ce la fa non opporsi al malvagio? Ma se una persona mi ha fatto davvero del male, io devo vendicarmi, devo fargliela pagare. Gesù ci sta portando un nuovo principio ed è rivoluzionario, quello dell'agape, che è un principio divino, non è un principio umano. Il principio umano è la vendetta. È che se qualcuno ti fa male, tu rispondi al male. Poi anche in questi giorni io so che ci sono tantissime eccezioni che noi possiamo tirar fuori. Lo so, però in questo caso, come oggi ci hanno detto, noi dobbiamo guardare a quello che comunque Gesù ci vuole dire, ci vuole aprire la mente e lo fa attraverso lo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo queste parole non valgono nulla. Sono impraticabili e sono impossibili e noi avremo liste intere e spero che voi non me le facciate oggi nei commenti. Io questa situazione ormai anni e anni ci ho provato e non riesco. Lo so e Dio volete che non lo sappia tutto questo, tutto ciò che ti è accaduto, tutto ciò che mi è accaduto, ma Dio ci sta innalzando, ci sta portando ad un altro livello, il livello dell'agape, che è l'amore che viene dall'alto, che è l'amore che viene dallo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo è impossibile amare, è impossibile essere buoni, perché prima o poi ci arrabbieremo, ci indigneremo, ci vendicheremo e diremo, Signore grazie che mi sono vendicato. Ma Dio non vuole questo, Dio vuole che tu agisca secondo lo Spirito Santo. Nella lettera ai Romani al capitolo 12, versetto 21, San Paolo dice, vinci il male con il bene. Amen? Non lottare il male con il male, perché tu stesso cadrai nella fossa, vinci il male con il bene. Amen? E allora oggi è il momento, fratelli e sorelle, non di pensare come farò, o che cosa devo fare. No, è il momento di invocare lo Spirito Santo. Lo ripeto, senza lo Spirito Santo tutto il discorso della montagna, Matteo 5, anche Luca 6, è impraticabile, impossibile. E noi cristiani abbiamo lo Spirito Santo, per mezzo del quale possiamo amare e perdonare. Amen? Spirito Santo, vieni nella nostra vita. Abbiamo bisogno di Te. Spirito Santo, entra nei nostri cuori. Apri la nostra mente, apri il mio cuore. Io ti presento le mie incapacità, le mie debolezze, la mia fragilità nell'amare. Senza di Te, Spirito Santo, non sono nulla. piega in me ciò che è rigido. Scalda in me ciò che è gelido. Spirito Santo, fammi amare. Aiutami a non oppormi al malvagio. Aiutami ad amare, a vincere il male con il bene. Che io sia un testimone gioioso della presenza di Gesù Cristo in tutta la mia vita. E a Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan di questo Vangelo è proprio questo. Non opporti al malvagio. E io insieme vorrei dire, ma invoca lo Spirito Santo. È uno Spirito d'amore. Scenderà su di te e ti farà fare le cose che tu da solo mai potresti fare. Amen? E vi mandiamo qui in sopravvisione alcune foto del pellegrinaggio che abbiamo fatto proprio ieri, anche l'altro ieri, perché siamo venuti a piedi da strona. Sono circa 25 chilometri su e giù, ma è stato un bellissimo pellegrinaggio. Con l'intercessione per voi e per ogni persona e situazione che ha bisogno. Grazie a chi mi avete accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Un caro saluto da Europa. Ciao. Oracolo del Signore al mio Signore Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere Stende il Signore da sì.